Buongiorno a tutti ragazzi sono Gilbio e sono qui oggi perché voglio iniziare una nuova serie come potete leggere dal titolo del file oggi è l'episodio 0 della serie reagisco al vostro portafoglio prima di partire però se questa serie vi gasa vi chiederei cortesemente il raggiungimento di 100 like così ve la porto di questa settimana qua magari sabato o domenica ovviamente vi chiederete come posso fare a farmi reagire al portafoglio molto semplice in descrizione vi ho messo il link di questo file qua voi dovete semplicemente cliccarci poi una volta che ci avete cliccato vi porterà questa pagina qua ovviamente voi non potrete andare ad inserire i dati in questo foglio qua perché è un foglio che io ho reso pubblico ma dove solo io sono l'editor quindi cosa dovrete fare dovete andare su file e dovrete fare crea una copia vi aprirà questa sezione qua e voi semplicemente dovrete scrivere reagisco al vostro portafoglio e poi scrivete il vostro nome normale vi aprirà questa schermata qua e voi semplicemente salverete il vostro file nel vostro drive farete ok e ovviamente una volta fatto avrete la possibilità sul vostro file di andare a modificare quindi ripeto non potete inserire i dati all'interno di questo foglio qua dovrete poi riaprire google drive e andare a inserire i dati nella copia che vi siete creati una volta fatto ciò dovrete andare a inserire solamente i dati delle colonne azzurre molto semplice quindi ad esempio supponiamo che voi abbiate un'azione amazon inserite amzn e in automatico il file capirà che si tratta di amazon dovete inserire il paese in cui opera amazon quindi stati uniti in cui ha sede amazon e poi dovete inserire questi due dati qua ovvero il vostro prezzo e la vostra quantità quindi quantità una e il vostro prezzo supponiamo che l'abbiate acquistata a 3000 dollari tutto il resto farà il file che vi ho creato io quindi molto molto semplice supponiamo adesso ve ne metto un paio così capite un attimo supponiamo che abbiate anche netflix google facebook e amd ovviamente sono tutte usa quindi mettete usa 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 e supponiamo che abbiate netflix a prezzo 450 alfabet a 2000 facebook a 300 e supponiamo che amd l'abbiate comprata 90 quindi l'unica in perdita quindi mettiamo una 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 ovviamente la quantità dovete mettere il vostro numero di azioni una volta che avrete completato tutte le azioni del vostro portafoglio quindi non vi serviranno più ricchi dovete semplicemente fare così prendete dal fondo a l'ultima riga che avete messo le selezionate tutte e fate elimina le righe selezionate ok e quindi in automatico vi verrà fatto tutto il calcolo poi se avete voglia andate a scrivere i paesi in questo file in questo foglio qua e in automatico vi farà la divisione geografica supponiamo quindi che io abbia messo tutte usa ovviamente il totale sarà 100% usi ok quindi 100% però supponiamo che anziché amd mettessimo un'azienda cinese io se metto cina qua mi va a fare la sua divisione e avrò un 1% cinese e un 98% stati uniti questo foglio qua una volta totalmente completato sarà molto semplice inviarmelo dovrete semplicemente fare condividi qua in alto e scrivere gdevalle54 che sarebbe la mia mail vi consiglio poi di lasciarmi editor perché se mi rendo conto che c'è qualche errore vado a modificarlo e ve lo sistemo e qua se avete piacere mi scrivete un messaggio in cui mi spiegate un po' il portafoglio se avete piacere se no no ovviamente ci tengo a precisare che nel momento in cui andrò a fare il video in cui reagisco ai vostri portafogli il tutto sarà in forma anonima cioè ovviamente non dirò i vostri dati o quelle cose lì quindi state tranquilli non sarà tutto super in anonimo ci tengo poi a precisare che per chi fosse curioso sul mio sito o comunque in descrizione trovate la possibilità di accedere al mio portafoglio quindi se qualcuno fosse interessato invece di farsi agire il portafoglio o comunque ad entrambe le cose trovate il link in descrizione per accedere al mio portafoglio tra l'altro vi consiglio di andare sul sito perché abbiamo rivisto tutti i prezzi e se siete interessati potete appunto acquisire l'accesso tra l'altro abbiamo aggiunto la possibilità di iscriversi gratuitamente alla newsletter considerate che ogni lunedì io invio insieme al mio collega una newsletter gratuita dove vi diciamo le 3 azioni che abbiamo comprato mentre quella a pagamento ve ne diciamo 8 perché considerate che io ogni settimana acquisto 10 azioni tramite un piano di accumulo quindi quella gratuita vi permetterà di avere accesso a queste 3 azioni gratuite mentre quella a pagamento che costa 2,99€ quindi molto molto basso cioè accessibile a tutti per me infatti ne vale tantissimo la pena avrete appunto accesso a questa newsletter con 8 azioni per farvi capire la newsletter sarà composta così ovviamente questa qua è la newsletter di prova quindi non state a prendere i dati così perché non ha senso però molto molto semplicemente ogni lunedì sul vostro telefono vi arriverà una mail in cui vi diremo le azioni che abbiamo comprato quindi ovviamente tipo peloton, il prezzo a cui siamo entrati, il nostro rating dell'azienda cioè il rating basato sui nostri calcoli e il price target cioè la stima che hanno gli analisti ad un anno per quanto riguarda il prezzo dell'azione ovviamente poi mettiamo anche il link per accedere al Yahoo Finance dell'azienda quindi secondo me è un servizio che vale veramente veramente la pena soprattutto perché le prime tre azioni sono gratuite se invece volete sbloccare le altre potete farlo tranquillamente ad un prezzo che è bassissimo cioè 2,99€ al mese che considerate che teoricamente secondo i nostri calcoli ovvio non è garanzia però secondo i nostri calcoli ogni azione che noi andiamo a comprare su un orizzonte temporale di 5 anni dovrebbe garantirci una performance media di oltre il 12% anno quindi molto molto interessante quindi 2,99€ sicuramente statisticamente dovrebbe valerne la pena quindi ragazzi ricapitolando dovete semplicemente andare al link in descrizione ovviamente io vi manderò questo file totalmente vuoto dovete semplicemente inserire i ticker inserire lo stato, il prezzo, la quantità quindi solamente le cose azzurre e poi inserire i paesi anche qua una volta fatto dovete fare condividi a gdvall54.gmail.com magari ve lo lascio in descrizione comunque è questo qua gdvall54.gmail.com e una volta fatto mi potete scrivere anche una mail detto questo ragazzi ma io spero che questo video qua vi sia piaciuto lasciate un bel like, un commento e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video a presto a presto